Milan Tottenham, record a San Siro, è l'incasso alto per la storia del calcio italiano. Milano abbiamo illuminato tutti San Siro, noi in campo e tifosi sugli spalti che sono stati fantastici. A parlare così dopo l'1-0 rifilato al Tottenham di Antonio Conte nell'andata degli ottavi di Champions League è stato Brian Diaz. Fantasista del Milan, autore del gol vittoria che consentirà alla squadra di Stefano Piogli di presentarsi per il secondo round a Londra con un minimo vantaggio. Milan Tottenham 1-0, statistiche e tabellino incasso da record ma a rendere onore al pubblico rosso-nero è stato anche l'ex tecnico interista. Ora alla guida degli Spurs, abbiamo trovato 80.000 abbelenati che hanno spinto il Milan oltre l'ostacolo ha detto Conte. E anche se gli spettatori erano solamente 74.000, quindi qualcuno in meno di quelli conteggiati dall'ex Citi Azzurro. L'incasso, 9, 133, 842 euro, è stato il più alto di sempre nel calcio italiano. Virgola